Se persino a livello europeo si dà rilevanza nel prossimo ciclo di programmazione comunitaria, 14-20, alle periferie e in particolare agli ingressi alle città, qualcosa significherà. E' anche difficile gestione per l'amministrazione comunale, dobbiamo ricordare che questa è una lottizzazione del 1995 e che almeno da più di 10 anni è quasi completamente abitata. In quei plateni sono previste due corsie per ogni senso di marcia con lo spazio di traffico centrale dove verranno inserite la pubblica illuminazione, quindi poi da quest'altra parte per due metri circa, da questa parte dall'altra, faremo diciamo non un camminamento, un viale alterato. Allora questa è la viabilità che dobbiamo realizzare, questo è l'ultimo palazzo che appunto le dicevo e qui faremo questa rotatoria che dà la possibilità intanto di rallentare